Fare leva sull'associazionismo per superare i limiti strutturali dovuti alla piccola dimensione e la capacità di assecondare la voglia di crescere. L'attività di Confartigianato Vicenza a favore delle imprese fa scuola. Confartigianato ha ospitato una delegazione ministeriale della Repubblica Dominicana indirizzata a Vicenza dall'Istituto Italo-Latino-Americano. Questo grazie ad un programma finanziato dall'Unione Europea con lo scopo di favorire relazioni dalle quali un domani potranno nascere anche interessanti opportunità commerciali. Per l'associazione quindi l'occasione di proseguire nella politica già adottata con paesi, ad esempio nel continente asiatico, i cui mercati oggi figurano nella lista dei cosiddetti emergenti e di conseguenza interessanti per le imprese esportatrici. Il capo delegazione, Noel Bou, ci spiega nel dettaglio gli obiettivi della visita. La delegazione del Ministero di Industria e Commercio a piccole e medie imprese della Repubblica Dominicana è in visita in Italia e questo viaggio è finanziato da un programma dell'Unione Europea che tende proprio a favorire lo sviluppo di politiche di aiuto e di supporto alle piccole e medie imprese nel caso della Repubblica Dominicana e conoscere iniziative di successo per gli strumenti per l'internazionalizzazione e accesso al credito, quindi tutti quelli che sono gli strumenti che le varie associazioni come in questo caso la Confartigianato offre alle piccole e medie imprese per appunto supportarle e per aiutarle. Quindi sono qui per conoscere le best practices, quindi le migliori esperienze. Confartigianato è stata identificata come una delle best practices da seguire come esempio per poi, rientrando nel loro paese, possono in qualche modo migliorare anche la loro politica nazionale. Di quello che avete già raccolto, che cosa vi ha particolarmente colpito e interessato? Bueno, nosotros en la Repubblica Dominicana... Quello che ha più colpito è che il numero di aziende o la dimensione delle aziende è più o meno simile anche in Dominicana. Il 99% delle aziende dominicali sono di piccole e medie dimensioni, come anche in Italia. Però quello che invece risulta più interessante in Italia rispetto alla Dominicana è che è la forza produttiva che hanno queste imprese, ma non a livello individuale come hanno loro. La forza produttiva delle piccole e medie imprese italiane deriva proprio dall'associazionismo e dagli strumenti che offre in questo caso il confartigianato che gli dà molta forza proprio nel momento in cui si uniscono insieme. E' questo che le ha colpiti molto. I componenti della delegazione hanno avuto modo di conoscere strumenti, interventi e servizi studiati e realizzati per aiutare le imprese ad affrontare i mercati di riferimento, ad aggiornare processi produttivi, prodotti e servizi. Come è nata questa iniziativa? Beh, è nata grazie alle buone relazioni in essere con ILA, che è l'organizzazione che supporta e favorisce le relazioni tra Italia ed America Latina ed anche in considerazione del numero di progetti di cooperazione che abbiamo realizzato nel continente sudamericano e che ci hanno portato ad essere riconosciuti come un centro di competenze per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e di supporto alla micro e piccola impresa.